Ovviamente noi ottemperiamo a tutte quelle che sono gli obblighi commerciali e il piacere di un brano musicale per i nostri ascoltatori ma ovviamente l'attività qui continua in termini dialettici Allora devo fare il microfono che c'era? Lorenzo, prego Sì, volevo fare un appunto relativamente al... Più vicino al microfono A quello che stava dicendo prima Il consigliere Berruti Berruti, esattamente Per quanto riguarda gli NCC Ovvero, gli NCC è inutile che fanno dei ricorsi perché la legge 2192 non li obbliga a lavorare esclusivamente nell'ambito territoriale di competenza della licenza ma prevede esclusivamente, così come ormai da anni il fatto che debbano partire dalla loro rimessa e tornare alla loro rimessa quando hanno finito il servizio Tutto questo non avviene Ci sono delle cooperative compiacenti alle quali vengono conferite le licenze e quindi facendo finta che questa licenza sia dello stesso territorio della cooperativa hanno l'autorizzazione, diciamo, di sostare nel comune come il comune di Roma Ovviamente questo viene fatto tutto completamente in barba alle leggi come la legge 2192 che è stata emendata a marzo dell'anno scorso Loro sono tenuti ad esempio a mantenere nel proprio veicolo la bellezza dello storico di ben due settimane di ricevute dalle quali devono essere vinte anche i nomi e le indicazioni di tutti quanti i clienti Tutto questo non avviene e nessuno glieli chiede Vorrei concludere il mio intervento dicendo semplicemente che all'aeroporto di Fiumicino argomento principe quest'oggi il gruppo pronto intervento traffico dei vigili urbani di Roma è impossibilitato ad elevare contravvenzioni o a fare controlli se non è presente il gruppo pronto intervento traffico di Fiumicino del comune di Fiumicino e questo è uno struzionismo bello, buono e chiarissimo Quello però credo che si vada sulle aree di competenza perché un comune può agire nell'ambito anche nella definizione perimetrale ecco del territorio invece un'altra cosa perché poi dobbiamo dare come ricordava giustamente Claudio grande sostanza perché queste sono quelle grandi opportunità che servono alla categoria al politico e noi che facciamo questo lavoro si è sempre detto che la vittoria d'Alemanno sia stata fortemente indicata incisa caratterizzata dalla partecipazione dal flusso elettorale di alcune categorie una di queste è innegabilmente almeno nell'immaginario a banda larga della comunità romana quella dei tassisti oggi possiamo trarre un bilancio perché sta finendo fisiologicamente il mandato di Alemanno rispetto al passato questa amministrazione è stata più attenta più vicina alla categoria secondo Lorenzo date tutti i giudizi personali opinabili ci mancheremo secondo me sì anche alla luce di quanto diceva l'onoreo Berruti quindi che quando Veltroni ha emesso queste due mila licenze senza alcun tipo di considerazione tecnica possiamo dire che comunque Alemanno ci ha difeso di più noi siamo molto impauriti da quello dal futuro e da ciò che verrà vedremo sì o no con la testa se vuoi parlare magari anzi buonasera perché non avevi ancora parlato Gianni buonasera Gianni no vabbè io stavo sentendo lui mi sono un attimo distratto meglio Alemanno come amministratore come sindaco rispetto ai precedenti io sono sono sempre preso un attimo in di mira non volendo perché io sono uno delle nuove licenze però quelle delle nuove licenze ce ne stanno pochi qua non ok ammazza il 50% e Merlo che fa lei se perde il momento cruciale della discussione però al 50% state come no e beh ci mancheremo in un modo o nell'altro ma do da fare per la categoria insomma Merlo mi è testimone anche gli altri ragazzi che ci stanno su Facebook perciò a me mi chiamano il principe perché ma mi sto a permerlo perché no io volevo dire una cosa no gli NCC che sostano davanti agli alberghi noi paradossalmente dobbiamo stare tutti incanalati dentro allora gli NCC sostano davanti agli alberghi perché la gran parte dei vigili urbani di Roma sono corrotti e lo lasciano fare non solo i vigili urbani è questa la verità cioè non è che c'è un'altra verità noi di che parliamo ma di che parliamo ma sostano davanti agli alberghi perché c'è anche la compiacenza dei portieri scusa principe ci possono stare fuori dalla possono sostare fuori dagli alberghi no assolutamente no ecco ma non possono sostare sul suolo comunale arriviamoci per grati pubblico arriviamoci per grati il portiere sta lì c'ha famiglia sbarca Lunario a me sta filosofia non sta bene molto rabberciata io li porterei tutti sono degli insolzioni però c'è un problema mentre il portiere non deve difendere la legalità il vigile urbano deve difendere la legalità della città di Roma esatto e questa è la differenza perché il portiere e l'NCC alla fine fanno il loro perché c'è un bellissimo resoconto nel film Spaghetti House di Nio Manfredi che è anni che non ricordavo più in trasmissione se lo ricorda il consigliere Berruti quando arriva l'ispettore di Scott Layard e gli dice signor Cecacci stia tranquillo e lui gli dice ma io non ho paura di questi che mi tengono che poi rivendicavano l'Africa Nera poverini io non ho paura di Bocio lo chiamava Bocio questo monenero che mi tiene in ostaggio ma di lei che mi deve venire a liberare i romani non hanno paura dei criminali perché i romani sanno bene chi sono quelli che producono attività criminale i romani hanno paura di quelli che dovrebbero difenderli dei criminali i radioascoltatori dovrebbero ricordare dovrebbero i radioascoltatori anche chiaramente i colleghi ricordano il servizio di striscia alla notizia che fece tirò fuori insomma la questione delle mazzette che prendono i portieri la finanza dove sta e questa è evasione questa è corruzione voglio dire il problema che stavo dicendo prima dei parcheggi noi dobbiamo stare nel posteggio a strisce gialle se stiamo fuori di mezzo metro ci fanno una multa non possiamo perché non ci possiamo fermare in qualsiasi parte del territorio comunale che non siano i posteggi delimitati perciò siamo paradossalmente a casa non cucina il bagno perché sul barcone ci posso stare no 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 c'è un altro tipo di riflessione quando gli ho detto all'inizio se vuole parlare ho detto te no a Roma si dice non ce va non ce va e poi ce va lento il bullone no 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 ci mancherebbe Claudio grazie per questa tua testimonianza allora cerchiamo di coinvolgere anche poi Lorenzo ecco Marco chi non ha parlato questi ragazzi ecco allora Marco Marco in realtà ha parlato e chiedo scusa rimarco una cosa che è successa questi giorni proprio non so se avete sentito della band si come a Fiumicino esattamente c'erano almeno tre persone uno simulava un malore la classica spaghetti house veramente cioè quello che succedeva anche nei film uno simulava un malore l'altro faceva il padre e l'altro borseggiava tutto quanto scandalo grandissime pagine di giornali proprio all'aeroporto di Fiumicino signori questo è il bruscolo cioè non stiamo vedendo la trave se si scende ma invito qualcuno a giocare semplicemente che ne so quando fate un viaggio andate a Milano andate soprattutto all'estero guardatevi un attimino intorno guardate che cosa c'è dentro a quell'aeroporto persone losche che fanno che fanno delle cose imbarazzanti specialmente dalle nove di sera in poi dove c'è il controllo non c'è proprio quasi più per niente sotto gli occhi di finanza carabinieri vigili urbane anche in borghese fanno il bello e il cattivo tempo ed è un un hub internazionale stiamo a Roma io ricordo l'ultima volta sono stato in Grecia non succede cioè non parlo di Londra Amsterdam che lì Copenhagen sono stato meraviglioso ci sono dei servizi cortesia strepidosi proprio per i turisti ma parlo proprio di un hub internazionale in Grecia ad Atene non succede e in Grecia ci sono state delle elezioni che hanno determinato anche una vittoria su tutte se poi abbiamo paura della verità prego ciao io sono Angelo e sono come il principe una nuova licenza mi rendo conto che a Roma abbiamo poche corsie preferenziali e quelle poche sono sistematicamente occupate da camion che scaricano noleggi che usano le preferenziali come parcheggi biciclette motorini questa cosa per noi e soprattutto per il cliente è una una cosa in più sì esatto è un ostacolo perché uno prende il taxi per far prima per arrivare più veloce non prende l'autobus per quel motivo e poi ci ritroviamo a dover stare in fila con le altre macchine perché il nostro la nostra strada diciamo è occupata da tutte queste persone da tutte queste cose che non dovrebbero esserci non ci sono telecamere alle entrate delle preferenziali se non in poche se non in poche anche quelle sarebbero un ottimo deterrente perché magari ci sono solo all'uscita e non ci sono all'entrata come per esempio sulla via Aurelia tutti questi piccoli particolari io capisco che magari sono comunque dei soldi che il comune dovrebbe spendere e non è facile ma come dicevano i colleghi un girettino dei vigili non ci starebbe male con qualche multarella magari ti passa la voglia dei parcheggiacce allora grazie ad Angelo andiamo in pubblicità e poi il consigliere Beruti vuole rispondere anche sulla questione dei vigili a dopo Radio Roma Capitale consigliere comunale di maggioranza Maurizio Beruti nonché vice presidente commissione di mobilità a Roma Capitale prego io volevo puntualizzare un attimo sul problema dei vigili urbani di Roma perché sennò corriamo il rischio di fare lo stesso errore che si fa sul problema dei tassisti di fare tutto il buon fascio magari per quei 50 60 su 8000 io li chiamo delinguenti non c'ho paura e tema di smentita che rovinano l'immagine del settore rovinano la categoria anche nei vigili urbani prima di che ci stanno per i che fanno il loro dovere certamente gli ultimi fatti di cronaca hanno evidenziato come alcuni che sono stati incriminati agli ero penale hanno fatto delle cose che non potevano essere fatte ci viene in soccorso il Papa ha detto una cosa vecchia come il mondo il male fa più rumore del bene esatto esatto e quindi a fronte di parecchi vigili urbani che fanno il proprio dovere ci sono altri che il proprio dovere non lo fanno guardi che lei sa meglio di me che quelli che fanno il proprio dovere sono le prime vittime dei corrotti perché poi li mandano in periferia li mandano fuori chi lavora in silenzio tutti i giorni a volte fa molto meno testo di quello che invece fa un'azione illegale è molto pesante magari una volta al mese e il problema delle corsie provinciali io su questo mi sono speso moltissimo è vero nelle corsie provinciali del centro ci sono delle telecamere che hanno pizzicato anche qualche deputato che si è lamentato del fatto che non potrà passare più con la sua macchina nelle corsie provinciali io mi sono opposto al fatto che una sessantina dei consiglieri capitolini tanti siamo fino a fra poco saremo 48 io non so se ci sarò ma comunque saranno 48 che volevano avere il permesso per passare corsie preferenziali allora io lì ho evidenzato una cosa molto importante e che deve far ragionare nella corsia preferenziale non vale che possono passare tutti coloro i quali hanno un interesse magari particolare la corsia preferenziale è l'eliminazione di uno spazio pubblico dedicato ad una certa situazione questo è un paese libero dove non può impedire la libertà di movimento ai cittadini limitare una zona particolare per un determinato servizio può essere fatto solo e solo quando si dimostra che ci sia un interesse pubblico notevole nel caso delle corsie preferenziali sono state create per gli autobus dove in 12 metri ci stanno 70-80 persone trasportano quelle 70-80 persone avrebbero occupato con la propria macchina 300 metri e quindi nell'interesse pubblico per la lente si può limitare i taxi all'interno di quelle corsie preferenziali sono accettati perché hanno un prezzo amministrato e quindi il fatto che non sono a libero mercato nell'interesse dell'utenza aumentando la velocità commerciale diminuisce il costo per l'utente quindi c'è una razio come c'è la razio del prezzo amministrato che rinasce l'analisi costi che c'è è prevista anche se secondo me attualmente non l'hanno applicata è prevista il regolamento comunale dove attraverso l'analisi dei costi si può avere un intervento pubblico per poter ridurre o limitare la tariffa quindi io su quelle ho fatto inserire qualche documento l'ho dato in giro ho fatto inserire nei vari delibere la possibilità di ampliare il numero delle corsie preferenziali però devono essere tutelate voi non lo sapete ma chi ha la scritta dell'handicappato non può passarci attenzione l'handicapp può passare nelle zone di traffico limitato e comunque deve passare in quelle strade che gli permettono di arrivare a caso ma non è detto che lui su via Nomentana dove c'è la stessa strada laterale può passare dentro soltanto che molto probabilmente siccome qui viviamo anche su luoghi comuni e allora se il vigile urbano si permette di sanzionare il povero handicappato che poi si è visto che c'era l'handicapp che ha Ferrari che poi si sono dalla Porsche ma cambia poco queste si sono viste che c'era anche lì un certo tipo di scandalo allora potrebbe essere tacciato che non vuole facilitare la mobilità del povero handicappato i problemi sono altri io sto mettendo mano adesso e nessuno lo dice sul problema soprattutto gli interessati che il trasporto di diversamenti abili che prima facevano come la legge per evita la 104 i tassisti perché deve essere dato individuale è stato dato in gara d'appalto con la pubblicizzazione della non affidamento diretto ad una società che lo fa con dei pulmini allora ci sono due fenomeni secondo me che andrebbero visti il primo che la legge prevede a trasporto individuale mentre i pulmini a trasporto collettivo il secondo devo capire se c'è un risparmio da parte della pubblica amministrazione oppure no poi quello che devo verificare è qualora il servizio del taxi sia più confacente al diversamente abile piuttosto che un trasporto collettivo di quel tipo e quindi ecco questi sono i punti notali che andrebbero anche visti anche perché secondo me e qui badati io già mi sono venuto a Iene per conflitto di interesse il 10 ottobre 2010 qui pare che io il modestissimo consigliere comunale sia l'unico che ha avuto l'onore di avere cronache nazionali io cerco di ragionare con le regole con quello che è la realtà io so benissimo che un trasporto di handicappati che potrebbe certamente portare maggior lavoro per il settore che già aveva gli è stato tolto se fatto individualmente dal tassista ha un rapporto una fidelizzazione diversa io nel regolamento comunale che ho fatto mettere addirittura che qualora si trasportano è handicappato proprio per quel tipo di fidelizzazione puoi andare anche al di fuori dell'orario di lavoro perché si innesca un meccanismo quindi purtroppo a volte come dicevi giustamente te prima soprattutto l'opposizione ha detto che i tassisti romani sono stati colori uguali hanno dato il viatico al sindaco di Roma per diventare appunto primate di Roma capitale in parte è vero come in tutte le cose perché poi i tassisti parlano con circa 145.000 persone al giorno e quindi è un mezzo di comunicazione molto potente e questo purtroppo questo luogo in parte comune ha determinato che il problema dei taxi non è stato più visto come un problema tecnico che io mi sono sforzato ricordate questo è il servizio pubblico ci stanno le leggi e le cose c'è l'articolo 5 bis che è attivo che è attivo della legge quadro e quindi non possiamo farlo diventare qualche altra cosa mentre l'opposizione ha strumentalizzato alla morte sul tema perché dovevano essere uccisi fra virgolette in senso politico e io dico qualora tu metti in discussione il lavoro delle famiglie della gente diventa pure fisico il problema perché loro erano i sostenitori della destra romana hanno fatto uno sgarro al re il re in quel momento era Veltroni era un sistema politico che si basa su della demagogia che va a colpire i più deboli ma che però sono autonomi guarda caso gli autonomi sono gli evasori sono i proprietari sono i ricchissimi tant'è che lì ci si è aggregata tutta quanta le varie associazioni dei consumatori associazioni che prendono i soldi da parte dello Stato quindi eh associazioni che vengono sovvenzionate dove addirittura falsi io mi sono speso per far ragionare falsi per cui il tassista incassava 500 euro al giorno allora visto che vediamo un po' con quale risultato allora abbiamo ripreso la vicenda Lorenzo vorrei parlare solo un secondo relativamente a quello che è l'evasione di IMS INAIL e tutte le altre tasse che girano intorno ai lavoratori autonomi che gli NCC attuano tutti i giorni in relazione a quello che è la sicurezza del consumatore possiamo dire che mentre un tassista è obbligato a lavorare non più di nove ore salvo rarissime eccezioni questi NCC usano le proprie auto per i propri clienti per anche diciotto ore e quindi non hanno dei fermi degli stop tecnici per riposarsi io conosco e i miei colleghi possono confermare un ragazzo che l'altra volta l'ho visto al molo B passare in giacca e cravatta perché pur di vivere ok sta facendo l'autista di noleggio con conducente ma non gli pagano i contributi aspetta un attimo sempre per l'opportunità che danno trasmissioni come queste grazie alla vostra partecipazione di tutti perché poi il vostro giudizio è perturbato fortissimamente dal coinvolgimento emotivo e diretto della vicenda ma voi pensate che i vostri nemici sono gli NCC gli abusivi gli illegali i nostri NCC in realtà sono talvolta delle come dire delle mancanze dei gap dal punto di vista istituzionale sono solo le istituzioni il vostro nemico che non consente il rispetto delle regole e non lo pretende e certo loro fanno loro fanno un'altra bravo Marco dice mica è boccio loro fanno un'altra operazione vi mettono contro un'altra categoria e questo è il problema ma noi l'abbiamo capito comunque a proposito di questo ci tengo a dirlo non fosse altro per questo spaccato d'umanità che io e lei non forniamo perché ci tiriamo fuori per ruoli consigliere Beruti ma i ragazzi sì fatemi salutare vorrei che salutassimo tutti insieme con un applauso i dipendenti dell'IDI gli amici e le amiche dell'IDI non percepiscono lo stipendio ormai da sei mesi dall'agosto scorso e gli hanno dato una questua di 1500 euro qualche giorno fa domani dalle 15 e 30 proprio in via dei Monti di Greta 104 dove c'è l'auditorium c'è praticamente la befana dei figli dei dipendenti dell'IDI portate giocattoli se potete non lo so andate lì basta poco presenziare se portate un giocattolo per questi ragazzini sicuramente figli più sfortunati all'IDI all'IDI ci va? è probabile che ora c'è? dalle 15 e 30 mi ha dato la mano quindi so che ci va e faccio un applauso io alle 15 e 30 dalle 15 e 30 fino alle 18 lo meritano perché io non l'avrei mai fatto a posto loro però faccio anche un lavoro diverso meno nobile loro da dall'agosto scorso che non percepiscono stipendio non hanno mai smesso un solo istante di prestare attenzione e cura ai malati dell'IDI di Villa Paola che sta a Capranica e del San Carlo di Nanzi quindi un grandissimo abbraccio ancora a loro dalle 15 e 30 domani si può andare proprio via dei Monti di Greta 104 dove c'è l'IDI e che bella opportunità diceva Vitaliano Brancati nel momento del disastro che accolgono le persone immaginate che bello la vostra categoria i dipendenti della sanità i precari di altre categorie professionali se voi vi unite vi prendete no Roma il mondo o abbiate almeno la capacità di individuare quelle persone che magari si sono distinte anche con merito perché io non esacerbo il giudizio nei confronti di nessuna categoria venendo sapete molti di voi dalla lotta alla pedofilia se noi incominciamo a dire la pedofilia riguarda la chiesa solo i conduttori radiofonici solo i politici facciamo solo diamo solo ulteriori vantaggi ai mostri quindi le cattive persone sono ovunque e le buone persone grazie al cielo sono ancora ovunque bisogna intercettarle bisogna continuamente pungolarle coinvolgerle sempre di più e stimolarle grazie a tutti